Carina, lei è carina, è la preferita di Andrea, mi ha detto Gianni Cambio, spettacolare, una D di entrata e Gianni Cambio, si sonne la sua serie genica, artistica si prepara per la serie Acro eccola lì, flic, salto, salto, stoppata la piruetta serve per l'esigenza e Gianni Cambio ad anello, una bella, eh, vale mezzo punto ruota senza ribaltata senza, impeccabile, non una sbavatura brava Martina costale, quindi le 3D senza le mani fatte in questa capovolta questa per esempio poteva soddisfare l'esigenza della piruetta si prepara per l'uscita è un doppio carpio anche per lei e allora facciamo una proposta che la prossima gara Martina la fa tutta bendata ah sì, dirai Grazie a tutti.